Io mi chiamo Antonio, sono nato in Calabria, nel sud dell'Italia, ho 19 anni e arrivo dalla Roma. Sono sempre stato attaccato al calcio perché la mia famiglia ha sempre giocato a calcio, i miei nonni, i miei zii, mio padre. Così è sempre stata per me una passione molto grande. Io sono un attaccante centrale, le mie qualità sono più che altro il mio tiro e la velocità perché sono abbastanza veloce. Gli ultimi sei mesi ho giocato nella Roma, primavera, under 19. È andata molto bene, ho fatto 9 gol e 2 assist in 12 partite. L'ho fatto perché penso che sia un buon modo per crescere e per diventare un giocatore. Siccome comunque c'è una grande storia dietro questo club, comunque a me piace molto il calcio olandese. Tutto lo stadio, tutta la struttura in generale è molto bella, è fatta bene, è innovativa, è una cosa che mi è piaciuta molto. Penso di poter migliorare sia come giocatore che come persona perché comunque andare a vivere all'estero è sempre un'esperienza. Giocare in un campionato ovunque di Serie B è sempre una gran cosa. Spero di poterlo iniziare al più presto possibile perché ci tengo a impararlo, almeno a capirlo. Giocare in un'esperienza